Ciao bimbi, ciao trenini, avete visto che gioco divertente ho fatto? Si chiama bullying. Con una pallina voi dovete colpire i bersagli che metterete a terra. Dovete usare dei giochini, mi raccomando però tutte cose che non si rompono per cui chiedete sempre alla vostra mamma e al vostro papà. Vince c'è chi ne fa cadere di più. Nella terra dei castelli bimbi ci sono le principesse, ci sono i principi, i cavalieri, le fatine, ci sono i draghi, ma sapete anche chi c'è? Ci sono i giullari che sono delle persone divertenti che insegnano tanti bei giochi e tante canzoni. la sentite anche voi però? Questa aria strana. Secondo me è aria di magia. Guardate un po'. Mamma, sono diventata una regina. Ma una regina che fa le magie. Guardate un po'. Wow che bella. Sono diventata una reginella. Grazie Maddalena che mi hai trasformata. E allora iniziamo subito a fare un gioco che ci ha insegnato a ciullare di corte, che si chiama regina e reginella. Oh regina e reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Tre saltelli da ranocchia. Oh regina e reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Due strisciate da lumaca. Uno. Due. Oh regina e reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Tre passi da gigante. Eccomi. Sono arrivata al castello tutto d'oro e tutto bello. Bimbi, allora vi sono piaciuti questi due giochi? Sono giochi che si facevano una volta, giochi che anche i vostri genitori e i vostri nonni facevano da piccolini. Sono sicura che se andate a chiederli ve ne insegneranno tantissimi altri. E allora per il momento noi vi salutiamo, ma aspettiamo tutte le vostre foto o i video di questi momenti divertenti in modo da poter ridere insieme. Ciao bimbi, a presto!